Bruno, un gioco da ragazzi? Com'era Bruno Conti quando ha iniziato, il ragazzo Bruno Conti? Il ragazzo Bruno Conti era per lui puro divertimento, perché vivendo a Nettuno l'estate giocava al baseball, l'inverno giocava al calcio e non era diversa, dove si cresce in mezzo alla strada, dove andavo in questo oratorio pur di fare il chirighetto e giocare con un campo con le porte con un recinto, che prima di solito si andava a giocare il campietto di fronte a casa mia e fare le porticine con dei mattoni, per cui penso che sia stato, ma questo è un omaggio anche un po' alla mia famiglia, perché mio padre e mia madre aver cresciuto sette figli con quel poco che si aveva, ma c'era un calore, un amore fra di noi che erano descriviti con le tante difficoltà, i sacrifici, ma anche le bocciature che ho avuto nel calcio e penso che sia per esempio i giovani che bisogna sempre il segno che si ha nel cassetto di non mollare ormai, quando si cade bisogna sapersi cazzare. Bruno, dedicato alla tua famiglia, ma penso dedicato anche ai due compagni di squadra che sono stati fratelli per te e penso ai ragazzi dell'82 che siete ancora tutti insieme, vi vedete, no? Assolutamente sì, ma questo prima è un omaggio alla mia grande Roma, alla Roma che amo io, come amavo il mio padre, essendo un grande tifoso, per poi la Roma che mi ha portato in nazionale. Chiaramente è un libro che racconta tanti aneddoti, anche della nazionale, di cose non raccontate per il silenzio stampa, di episodi belli, ma soprattutto di quello che è il gruppo. Noi, come hai detto te giustamente, ancora oggi abbiamo questo gruppo di campioni del mondo che ogni giorno ci diamo il buongiorno, ci mandiamo gli auguri, si scherza ancora. È la cosa bella di quello che si è vinto, l'ha vinto il gruppo, non l'ha vinto soltanto un giocatore. Grazie.